In che stato si trova la vita culturale nel nostro paese? La cultura ci potrà salvare? Questi sono solo alcuni degli interrogativi a cui si cercherà di dare una risposta domani alla Mediateca Montanari di Fano. Al dibattito previsto per le ore 18 parteciperanno importanti ospiti ed è un appuntamento che rientra nella rassegna denominata Con le parole giuste. Il ciclo di incontri è organizzato dal Comune di Fano, dalla Memo, Biblioteca Federiciana, Fondazione Federiciana in collaborazione con l'Associazione Nazionale Magistrati. Chi saranno gli ospiti? Marino Sinibaldi e Giovanni Solimine, due ospiti di eccezione. Nel primo caso il direttore di Radio Rai 3 e nel secondo il presidente del forum nazionale del libro, nonché autorevole esponente della cultura bibliotecaria a livello nazionale e internazionale. Un doppio appuntamento per parlare di sapere, di cultura e soprattutto di come la cultura oggi sia un elemento non accessorio ma assolutamente indispensabile per definire i termini e la qualità del nostro vivere civile e democratico. Quindi una riflessione anche complessa che affronteremo tra l'altro con Lella Mazzoli, che è la direttrice della scuola dell'Istituto di Formazione al Giornalismo dell'Università di Urbino e sarà un'occasione per declinare nuovamente il concetto di giustizia con una nuova parola, per l'appunto sapere. L'incontro sarà occasione per presentare le ultime pubblicazioni degli autori, senza sapere il costo dell'ignoranza in Italia, e un millimetro in là, intervista sulla cultura, entrambi editi lo scorso anno. I dati elaborati dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico parlano chiaro e collocano il nostro Paese in fondo alla graduatoria per competenze alfabetiche e matematiche. Competenze, come riferisce lo studio, fondamentali per la crescita individuale, la partecipazione economica e l'inclusione sociale. Ad esempio l'Italia ha solo il 56% di diplomati contro una media europea del 73-4% ed oltre il 20% di laureati contro il 50% della Gran Bretagna. Dati che fanno riflettere e che descrivono in parte un'Italia appunto senza sapere.